Buonasera, è venerdì 4 ottobre, sono le 18.34 e invece che rilassarmi come fanno tutti solitamente arrivati al venerdì, perché ormai ci si prepara per weekend, che cosa faccio? Inizio a portarmi avanti e a prepararmi per oro e lo farò come di consueto utilizzando l'analisi ciclica evoluta o analisi evoluta di cui puoi avere tutte le informazioni se vai sul sito analiseevoluta.com tra cui anche la guida gratuita e l'analisi evoluta che cos'è? E' l'evoluzione dell'analisi tecnica e dell'analisi ciclica. Con questa che cosa faccio? I esco a disegnare in anticipo quello che mi aspetto a livello di movimenti dei singoli indici, cripto, delle commodity e altro e mediamente poi puoi vedere a grafico che cosa è successo, se avevo ragione e se l'analisi è corretta oppure no. E hai sul mio canale che è il primo in Italia con oltre 17.300 iscritti e oltre 3.500 video, prova di tutto quello che effettivamente si può fare con questo metodo. Questo è un altro video però comunque, quello non c'entra a livello di analisi. Allora, parliamo di oro. Nella scorsa analisi non mi ricordo più se eravamo su Money Moves oppure se era l'ultima qui sul canale, che cosa ti avevo raccontato? Che l'aspettativa principale era quella di salire. Salire o direttamente oppure fare una piccola discesa per poi continuare a salire. Ma in ogni caso, su, che cosa è successo? Abbiamo aggiornato ancora i massimi. E fare un'analisi in cui ti dico e mi espongo pubblicamente, guardate che si può ancora salire, si può tra l'altro arrivare a questo livello. E noi l'abbiamo sfiorato. Abbiamo fatto 2708,07 contro i 2712. Abbiamo sbagliato per 4 dollari. Ecco, esporsi in questo modo, disegnando le aspettative, non so quanti su YouTube o sui social riusciate a trovare. Qui facciamo davvero trading tutti i giorni e lo puoi anche andare a vedere sul canale di BNP Paribas con House of Trading come programma. Quindi, analisi corretta, adesso che cosa succede? Perché in tantissimi hanno visto che l'oro ha fatto una corsa micidiale, siamo entrati in un canale persino di breve periodo iper rialzista, canale che è l'evoluzione dell'analisi ciclica e una parte di quello che posso farti vedere, almeno, del Tecnica A4. E che cosa sta succedendo? Tecnica operativa di trading 4. Nell'analisi ciclica di Hurst, anzi, del migliorino, c'era una tecnica per essere tranquilli di andare a fare trading e ogni tanto purtroppo ci si beccava il raccordo contro. E si andava in stop loss. Noi ne abbiamo 4 e con il Tecnica 2 riusciamo ad evitare quasi tutti o tutti, no, quasi tutti dai, i raccordi e quindi le finte che ci possono essere. Allora, che cosa abbiamo qua? Andiamo a prenderci bene, anzi, rifacciamo il punto della situazione. Salita fortissima. Da qui abbiamo soltanto la possibilità di avere una finta a ribasso con rialzo successivo, che per adesso è durata 52 giorni più questi 6. Se torniamo stabilmente sotto, anzi, se in realtà andiamo a toccare, finiamo sotto i 2.500 2,7 dollari, abbiamo la possibilità di vedere un'inversione finalmente su oro. Dopo tutta questa salita, dopo un anno in cui ha praticamente battuto, penso quasi tutti a livello di performance, o comunque è un asset che ha performato estremamente bene. Quindi, anche se non sai appunto l'analisi ciclica voluta, hai questo punto qua, che ti dice, ok, non si sale più, si inizia a scendere e si può anche scendere bene. Per che cosa? Per la partenza di un ciclo annuale di inverso, o anche di più, per far partire un annuale di inverso, qui è modesta come discesa, comunque si scende. Per cui, occhio, perché se inizia, noi lo sapremo innanzitutto da che cosa? Lo sapremo innanzitutto da questo punto violato e se violiamo questo punto, ovviamente, in primis, dalla violazione della media mobile. qui in rosso, la più rapida delle due, è ancora più velocemente dalla temporanea violazione del canale che appunto ti ho disegnato. Quindi hai questo che funge da livello di supporto, 2638.4, un secondo livello sotto, questo, e quindi puoi misurare se questi due livelli interranno, oppure se finiremo direttamente sulla media mobile, sul canale, sulla linea bassa del canale, sulla parte bassa del canale, successivamente sulla media mobile e poi andremo a finire qui sotto. Vediamo anche che cosa è possibile che succeda, perché se andiamo a prendere l'ultima parte, io ti faccio notare determinate cose e potrei per carità parlare persino per ore di un grafico, ma è anche venerdì pomeriggio e magari ascolterai dopo quest'analisi, il signore ce ne scampi. Che cosa possiamo dire? Lato indice possiamo sempre dire che siamo ancora a 23 barre su minimo 24 di durata di un qualsiasi ciclo mensile che si chiama T più 2, qui trovi anche tutte le durate e la tabella per capire che cos'è un T più 2, è un ciclo mensile, un T più 3, un trimestrale, un T più 4, un semestrale e via di seguito. Il ciclo T è un settimanale che dura tra 6 e 11 giorni al massimo e ne abbiamo fatto un primo settimanale, un secondo settimanale, siamo su un terzo settimanale che sta facendo molta fatica a rimanere sotto questo minimo. Un settimanale che è arrivato a 4 barre e quindi vuoi un altro allarme che ti dirà ancora più rapidamente se continueremo, se inizieremo a scendere? Ecco, mettilo esattamente sotto questo minimo a 2646,20. 2646,20 centesimi. Vincolo sul ciclo settimanale, vincolo ribassista. Che cosa significa? Significa che già se alla quinta barra giornaliera, perché siamo sul time frame, ogni barra dura 24 ore, se a partire da lunedì andassimo a finire qui sotto, puoi valutare di shortare i top. Facilissimo. Questo perché? Perché rispetto all'analisi tecnica da cui parte anche l'analisi ciclica e l'evoluta, noi abbiamo la possibilità di controllare il tempo, per cui ci aspettiamo, se non ci saranno i cosiddetti raccordi che purtroppo ci portano in perdita, un raccordo è una finta, avremo la possibilità di, se lunedì andiamo sotto questo minimo, sotto il minimo di questa candela del 30 di settembre, di valutare, di shortare i top. Facile. Operatività di una semplicità unica. L'altra cosa di cui dobbiamo tenere conto passa invece dai cicli che partono dai massimi, vanno su minimi e tornano su massimi, disegnano questo genere di movimenti. Gli altri invece, come hai visto, sono cicli, sono onde che fanno così. Fanno da un minimo massimo minimo. A questo punto, noi, che cosa possiamo dire, avendo già 6 barre piene sotto un massimo? Che da qui c'è la possibilità, rispetto agli altri cicli che hai visto, siamo rimasti per poco tempo sotto un massimo, tranne che quando è partito un ciclo mensile inverso, tranne quando è partito un ciclo mensile inverso, eccetera, eccetera. Qui possiamo dire che può iniziare effettivamente un ciclo mensile di inverso. E cosa significa? Che si può scendere. Che si può scendere vincolandosi anche grazie a questo, alla violazione del minimo che ti ho appena dato, che si può arrivare anche a un supporto, che si può andare a finire sul canale basso del tecnica 4. E tanto alto. Attenzione perché, come faccio a sapere se le cose non stanno invece andando bene? Cambia tutto se si torna invece sopra al massimo a 2.708,7 dollari. È facile. Hai due punti di controllo, uno e due. Nulla di particolarmente è difficile. Nel caso si tornasse a salire troppo rapidamente, eccoci qua. Hai le due resistenze dinamiche che sono volumetriche, che quindi si muovono al muoversi dei volumi e al muoversi del tempo. E quindi capisci, se andiamo ancora a livello di dettaglio superiore a quello del giornaliero e finiamo sul grafico a 45 minuti, che funziona molto bene sulle commodity, potrai vedere che noi stiamo provando a spingere. Per fare che cosa? Per andare in chiusura del settimanale inverso. Qui siamo arrivati a 29 barre, ma prima ci si vincola a continuare a salire, perché si supera il massimo di partenza. Poi si supera però il minimo. È una cosa estremamente strana, quindi non prendo tanto in considerazione il fatto che qui si possa essere chiuso su questo massimo il nostro sesto ciclo giornaliero inverso. E in più si chiude con candela verde. Candela giornaliera verde, se si vuole chiudere a 6 giorni il settimanale di inverso, altrimenti non chiude. Va avanti anche fino a 8, 11 e tutte le durate intermedie. E quindi dato che non è possibile che abbia ancora chiuso, ti faccio vedere che se qui venisse confermato il nostro raccordo, potremmo continuare a muoverci per altri 3 giorni al minimo, appartenenti appartenenti sempre a questo settimanale di inverso. Guardando la situazione con queste candele che sta facendo, a me un po' di paura la fa che non si sia vincolato di sesto ciclo giornaliero inverso. Ho provato rapidamente a dare un'occhiata alla centratura, perché purtroppo quella a 45 minuti non ho avuto tutto il tempo per andarla a vedere. Ah, che aspetta, vediamo qua. Vediamo se invece l'ho trovato. Dunque, così, ci fermiamo qua. No, non ci sono? Sì, ci sono le barre sotto. Forse partite da qui sarebbe veramente una roba... dimmi di no. Sì, ci sono 5 barre, è pazzesco. Potremmo aver fatto sta roba qua? Anche in questo caso, con questa spike fatta più alta prima di andare a chiudere e a completare un inverso. Non me la sento di poter dire che il settimanale inverso si sia chiuso e non è possibile che si sia chiuso per il discorso delle candele, del colore della candela. Se non diventa verde alla fine della giornata, alla fine delle contrattazioni di questo venerdì, non si è chiuso comunque il settimanale inverso. Quindi vediamo se hanno voglia, prima di provare a fare... anzi, aggiorniamolo perché così non mi perde tutto quello che ho fatto. Ok. Vediamo se hanno voglia prima di andare a fare così, ok, di provare a rimbalzare e poi di scendere. Perché manca in questo momento con una candela rossa una chiusura di inverso, che può essere fatta più in alto oppure fatta alla fine di un movimento discensivo. Per cui anche in questo caso comunque abbiamo che cosa? Tutti gli allarmi e tutti i controlli pronti per capire come si muoverà oro. Certo, qui abbiamo una condizione su questo massimo necessaria e sufficiente per la chiusura di tutto mensile, tutto un trimestrale che però sarebbe appunto il nostro raccordo di inverso e teoricamente per una bella discesa. A meno che appunto non si vada sopra i 2.708,7 dollari. In quel caso, come detto, cambiano decisamente le cose. Ok? Occhio perché quando si è su un raccordo di inverso di oro si rischia parecchio. Attenzione perché si rischia tantissimo ad essere, ad esaminare questi cicli grossi di pluriennali per fare questo genere di cose ma hai dei punti saldi. Sotto il punto J si inverte e non si sale più per un po'. Ok? Mi auguro che ti sia piaciuta questa analisi, ti ringrazio per il tuo tempo. Se vuoi vederne di più di oro ovviamente metti un bel like e condividila con tutti gli amici che hanno voglia di fare trading reale tutti i giorni in maniera seria e professionale. Buona serata e buon venerdì.